bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo video in cui ho fatto un bel video che un po' faticato però un pochino da ci sono riuscito e vi spiegherò il video di cosa si tratta prima di cominciare questo nuovissimo video lasciate sempre like di mi piace come sempre e continuate iscrivete al mio canale che è gabriegame99 mi raccomando iscrivete al mio canale il video che andrò a fare che ho già fatto è una specie di parodia quindi mi è venuta questa bella idea una parodia pure preso spunto che era uscito pure su prime tipo lol tipo di trasmissione di uno che che tipo nel ruolo di tipo telegiornale tipo schetti g24 e ho ricreato tipo un po la stessa cosa che poi ho cantato pure anche in karaoke la canzone di la bomba e l'ho registrato con il microfono condensatore altrimenti manco mi sentivate mentre facevo questa cosa quindi spero vi piaccia andatelo a vedere questo video godetevelo fino in fondo lasciate like e accetterei anche volete i commenti mi raccomando lasciate like e commentate in questa parodia mentre canto diciamo canto che faccio tipo telegiornale con la canzone della bomba in karaoke mi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video ciao belli e sono tutti benvenuti a sky tg24 parleremo di un argomento del segno zodiacale dei pesci avrete sbagliato opportunità di concretizzare i progetti a cui tenete di più a raggiungere anche risultati per molti di voi è possibile un avanzamento di carriere che migliorerà la vostra posizione a noi manzioni che manterranno l'altro le vostre capacità organizzative di carriere che migliorerà la avrete insomma la possibilità di gettare di gettare tanti segni tanti segni che genuaglieranno sani periodi più intensi e creativi da metà gennaio a metà gennaio a fine maggio settembre 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 ottobre avrete sbagliato opportunità di concretizzare i progetti a cui tenete di più raggiungere anche risultati inesperti per molti di voi è possibile un avanzamento di carriere che migliorerà la vostra posizione e niente questo telegiornale di sky tg 24 finisce qui dal vostro carissimo gabbie m99 trovando la linea a voi dello studio ciao ciao